Un donatore tira l'altro il titolo del primo terneo di biliardino che l'Avis, sezione comunale di Portoferraio, ha organizzato al Molo Elba in collaborazione con il Bar La Vela. 21 le coppie che si sono date battaglia, che hanno dato vita ad appassionati incontri. Oltre ai numerosi premi messi in palio dal Bar La Vela, l'Avis ha offerto a tutti i gareggianti medaglie di partecipazione e premiando con coppe le prime tre coppie classificate. Il direttivo Avis ha premiato anche il primo donatore classificato che ha ottenuto un allusinghiero secondo posto. Il contatto fra i consiglieri Avis e i partecipanti al torneo, dicono dalla sezione, è servito a sensibilizzare i giovani, cercando di far capire loro quanto sia importante il gesto della donazione e fondamentale per chi ne ha bisogno. Il presidente Dante Leonardi e i suoi collaboratori favorendo eventi di questo tipo intendono informare in modo capillare il mondo dei giovani, ed avviarli al generoso gesto della donazione. La classifica finale del torneo di Calcio Balilla vede al primo posto la coppia Salvatore Candrian e Lorenzo Romeo, secondo i classificati Flavio Gualco e Filippo Battaglia, che anche il donatore è meglio classificato, terzi Simona Pelleriti e Gianluigi Pieri.